...quadrone dell'evento salsero, oramai numero uno in Europa, Mr. Vincenzo Salerno del Paizzo! Ragazzi, è un onore e un piacere, per cui vi ha evoluzionato la salsa in Italia. Ciao, buonasera, ciao Salerno, io mi sono regato ancora di più nella vostra città, nel male prima e nel bene dopo, conosco la vostra città abbastanza bene, conosco soprattutto il vostro ospedale, dove ci sono stati 25 giorni, avete un ospedale eccellente, della gente che ci lavora dentro bravissima, sarei potuto morire a Salerno, ma sono rinato qui a Salerno. Quindi, sono affezionato a questa città. Che devo dire, Riccardo, tu sei diventato abbastanza bravo, sei migliorato, e Manzione, tu invece, andando a Cuba, sei peggiorato, Fabio Orsini, contano i numeri, ringrazio tutto lo staff, e Mario Desiderio ha detto, adesso facciamo cadere il locale, il locale non è caduto, quindi, tutti quanti, quando uscite, rimborso il biglietto, perché Mario Desiderio ha preso, non svegli, non svegli, non svegli, devi avere il coraggio, se uno dello staff dice, cadrà il locale, il locale non cade, tu, che sei il responsabile delle public relations, devi rimborsare tutti, giusto? Il locale è caduto? No, ok, riproviamo dopo, va bene. Vuol dire che noi a Salerno abbiamo delle ottime sovrastrutture, ragazzi. Un applauso a me, un blu di favore, difendetemi, perché se non è caduto, percora basta. Mario, Mario, Mario. No, cosa devo dire? Ti rimborsati. Cose importanti sull'evento People, l'evento People. L'evento? Le cose, per dei motivi per rivenire all'evento People, perché è l'evento People, le varie offerte, le varie proposte, sapete tutti, penso, spero, sappiate, che il prezzo dell'evento People viene scontato interamente dal prezzo finale del Baira Calabria, e poi le Masterclass, che grazie a Riccardo e a qualche altro maestro del Salernitano, siccome avevamo deciso di farle solo a Napoli, per l'inverno 2014-2015, le proponeremo anche a Salerno. Ok, grazie Fabriolzini, contano i numeri, contano sempre i numeri, contano le emozioni. Io vi saluto, scusate l'inframmezzo di tante parole, grazie Salerno, grazie a tutti voi, buona serata.